Sì, stavolta ti rispondo con un trailer, ma ho visto il film, quindi possiamo a questo punto, ed è l'unico, esce oggi se non sbaglio, esce il 3, no oggi, il 2 di ottobre, ed è una cosa consueta per i film di supereroi, o comunque di grandissimo richiamo, perché? Perché sono furbetti i distributori, hanno un giorno in più da vantare sul botteghino, e un po' sono buoni tutti, diciamo così, però... Vabbè, però questo è molto molto atteso, quindi credo che andrà bene. Credi? Credo. È il motivo per cui adesso faremo un confronto, tra l'altro abbiamo parlato di horror, ma non ti ho messo la sigla, quindi proprio oggi fuori dalle regole, ma voglio, sono molto curioso, perché ho visto il film, ma non ho visto il trailer, il film mi ha lasciato più interrogativi che certezze, ma voglio rispondere alla tua domanda, se andrà bene, come andrà? E l'unico traino che porta le persone al cinema, oltre alla volontà di... Beh, in questo caso anche i nomi, eh. E i nomi, e il trailer, quindi ci ascoltiamo, il trailer di Joker Folie a 2, e ne parliamo. Due anni fa il nome Arthur Fleck colpì Gotham come un muragano. Beh, non lo è. È stata tenuta in originale. Ho il vato al sospetto che non stiamo dando al pubblico quello che vuole. I filmi. Diamo al pubblico quello che vuole. Sono piuttosto scioccato. Mi dico, mi è venuto bene il suo trailer. Sì, ma hanno messo delle cose veramente molto, 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 molto importanti per il film, nel trailer. Molto importanti, vabbè, ma sì... Va bene, allora, parliamo di questo... Ma, stranissimo. Non avevo mai visto il trailer, e forse meglio, perché quello che ho visto dal cinema è un film che sicuramente, appunto, stuzzica la mia curiosità. Non mi sento particolarmente spoilerata io, però, perché... Cioè, immagino dove vada il film, lo immaginavo già prima. E invece no. Invece no. Il bello di questo film, o il brutto di questo film, dipende dai punti di vista, è proprio la costruzione, è un po' quello che ha detto, dare al pubblico quello che si aspetta, ma, appunto, nel trailer, ma anche nel film, il problema principale è non dare al pubblico quello che si aspetta. Cioè, in Joker Folia Due, un gran... Folia Due, no, a due. Cioè, un discorso di doppi, di essere e dover essere. Il film di... questo film ha, all'interno del suo racconto, il discorso innanzitutto tra chi è Joker e chi è Arthur Fleck. Certo. Il Arthur Fleck è stato imprigionato, lo troviamo in carcere, in un momento quasi buono della sua permanenza, tanto da avere dei permessi al permesso... Ma io ricordo, scusa se ti interrompo, nel primo film lui era scappato alla fine, non l'avevano preso. In questo film c'è proprio il problema, a un certo punto è uno scollamento con quello che hai visto nel film, del primo film, e quello che vedi nel secondo film. Il problema viene esplicitato dal fatto che il personaggio di Lady Gaga, anzi, la personaggia esattamente Lee Quinzel, è poi definita anche Harley Quinn, ma non diventa ufficialmente Harley Quinn in questo film. Beh, però alla fine c'è scritto Harley... Sì, 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 è il suo Harley, e quindi fanno sì, il logo è esplicitato, quindi la trasformazione del fumetto non c'è sostanzialmente, ma proprio tra loro due c'è il rapporto tra l'essere e il dover essere. Dicevo, il personaggio di Lady Gaga ha visto il film. Che tra l'altro lei stessa ha un problema con l'essere e il dover essere, c'è proprio Lady Gaga come artista. Che, spoiler, è una delle due cose più belle del film insieme a Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, veramente, io tutte le cose che ho visto, tutte le reazioni che ho visto a questa proiezione riguardavano lui. Cioè, adesso andrete a vedere come si fa veramente questo mestiere. Cioè, tutti hanno detto questa cosa. Non auguro a nessuno di fare il mestiere di Joaquin Phoenix con questa intensità, ma neanche come... Comunque è veramente, cioè, è diventato storto di suo, ma anche fisicamente storto. Cioè, questa schiena con queste ossa che escono fuori, veramente... Se vogliamo parlare dell'interpretazione, qui dentro, in questo film, c'è sicuramente come in The Well, la tensione di Zampaglione era nel realizzare dei effetti speciali, pratici, molto convincenti. Qui, il regista, ma anche tutto il progetto, Todd Phillips e Affini, si poggia su... Anzi, brilla per l'interpretazione di Lady Gaga e di Joaquin Phoenix. I due lavorano, hanno lavorato bene, funzionano molto bene insieme, ma fanno risplendere questo film che intorno ha abbastanza un po' le pareti disadorne. Lo trovo piuttosto paradossale portare al cinema con un trailer del genere. Mi ha veramente colpito, perché il film in sé per sé un po' non rispetta i presupposti del trailer, ma potrebbe anche essere il punto, il centro di questo film. Il film stesso si apre con un cartone animato, un breve cartone animato, tra la storia di Joker che si lotta con la sua ombra. Se non sbaglio, l'animatore è lo stesso di Appuntamento a Belleville, ma potrei sbagliare, non ho controllato mea colpa, ma sicuramente già introduce lo spettatore in una maniera anche piuttosto spiazzante, perché tu stai per vedere Joker Foglia 2 e parte e vedi un cartone animato. Ricordiamoci che quest'uomo è l'uomo che ha assistito praticamente in diretta alla morte di suo fratello. Non Joker, ma Walking Fingers. Ha un rapporto molto stretto con il disagio mentale e con il dolore. Quindi secondo me deriva anche un po', oltre alla sua capacità attoriale, ma deriva anche un po' da questo stravolgimento interiore, cioè sembra uno che è sempre sofferente per qualche motivo. Sicuramente è un bacino di esperienza che con grande facilità permette di andare a pescare determinati colori di moltissime interpretazioni. Ritorniamo sul film. Il film, come ho detto, Harley Quinn ha visto più volte il film di Joker, quindi ha un'immagine di Joker molto definita. Quando incontra Arthur Fleck in prigione, il problema si pone. Cioè, lei, c'è una relazione, c'è un innamoramento tra Harley Quinn e l'immagine che viene dal film. Sembra tipo un La La Land nero? No, pure questo. Per chi è spiazzato, o come me tiepido, sulla parte musical, è un musical che si interpone nella storia. No, ma io parlo dell'apporto di loro. No, nini, nini, è in un momento dell'innamoramento diverso. Io sono ancora davanti alle immagini del trailer, ho visto praticamente una roba... Boh, vabbè. Il film, come uso del musical, può essere accessibile anche a chi disprezza il musical. È quel musical che un po' racconta la parte onirica, pure qui. Più che altro la spirale ascendente o discendente di un rapporto tra due persone. Quelli che cantano sono prevalentemente Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Lady Gaga ha detto che è dovuto per fare una buona interpretazione canora disimparare a cantare. E all'inizio si sente meglio perché è un pochino più sporca, sbagliata, più rotten, più... Una persona normale che canta, diciamo una persona che non fa la cantante di mestiere. Tra l'altro cantare con delle parole esidentarie addosso ti ricorda Poemian Rhapsody. Lady Gaga pure, credo, abbia avuto degli incisivi aggiunti per interpretare Harley Quinn. Joaquin Phoenix invece fa Joaquin Phoenix che canta. Quindi è molto simile. L'avete sentito. L'avete sentito. E viene conservato a questo punto nella versione doppiata. Il film è letteralmente quello che non vi aspettate a questo punto. Ho visto... Sto continuando a vedere il trailer e vedo delle robe veramente che mi perplimono. Il film non credo andrà bene al botteghino. Perché no? Perché in 138 minuti, è un minutaggio importante, probabilmente la prima settimana porterà tante persone al cinema, ma tutte queste persone... Diranno alle altre che non è granché. Che non è quello che vi aspettate. Dal punto di vista dell'uso del personaggio, però questo film è intelligente. Todd Phillips e Scott Silver sono coloro che hanno firmato anche la sceneggiatura. E sicuramente è una modalità diversa di usare una proprietà intellettuale che viene appunto dal mondo del fumetto. Un Joker così non l'abbiamo sicuramente mai visto. È un Joker che potrebbe arrivare in un fumetto stand-alone. Noi in questa puntata dovevamo parlare anche di un altro Joker fumettoso, molto appunto staccato dal mondo di Batman. Batman non viene mai citato nel film, non compare neanche... Meno male, devo assoluto dire. Perché proprio è una storia, come nel primo film, una storia che se metti addosso o togli la maschera a questo personaggio, poteva essere, tranquillamente, mi riferisco al precedente film, la storia di un reglietto della società che diventa un criminale. In questo caso, se metti un grande sorrisone addosso a questo reglietto della società, fai Joker. Pure questa storia, pure questo discorso tra, appunto, essere e dover essere doppio, loro chiamano l'ombra e il corpo di Joker, è un problema che spunta da questo film. E quindi anche l'utilizzo di questo personaggio, la fine che fa, il futuro di questo, tra virgolette, franchise, oppure se ci sarà un terzo episodio, un terzo film, le strade possono essere veramente molto interessanti. Non so, da quello che vedo all'orizzonte di Todd Phillips, perlomeno, non credo sia interessatissimo a proseguire il discorso. Joaquin Phoenix stesso è molto orientato verso fare altro. Lady Gaga è Lady Gaga, quindi sicuramente è la stella che brilla di più in prospettiva del cast del film. Devo, cioè, devo assolutamente citare Brandon Gleeson, che è un ottimo carceriere. Un carceriere che, tra l'altro, si lega anche al discorso che facevamo l'anno scorso, sulla qualità di vita nelle carceri. Anche nella finzione non se la passano benissimo né i carcerati né coloro che lavorano nelle carceri. È abbastanza fedele, anche se stiamo parlando dell'Arkham Asylum. Insomma, il film mi è piaciuto? No. Mi era piaciuto il precedente? No, ma questo è interessante poco. Sicuramente il discorso è da rifare, è da rifare dopo aver visto il film. Se volete potete continuare recuperando questa recensione, che torno a casa e la monto subito, la porterò su YouTube immediatamente. Se l'avete visto, continuiamo il discorso nei commenti, perché ne vale veramente la pena. Ripeto, sono allibito da questo trailer. Sto cercando di capire se è effettivamente Adriano Giannini, che doppia nuovamente Joker in questo secondo... Joaquin Phoenix in questo secondo Joker. Credo di sì, credo di sì. Non è dato sapere dalla cartella stampa. Mi pare di sì, sicuramente l'ha fatto in quello del 2019, ed è stato anche premiato per quel doppiaggio, quindi suppongo che sia nuovamente lui. Tra l'altro Adriano Giannini, se non sbaglio, ha doppiato sia Joker che Batman. Interessante questa cosa. Non contemporaneamente, perché se no... Beh, certo. Dal punto di vista musicale, la parte musical ha appunto, vi ho detto, uno scollamento rispetto al racconto. Un po' si frizza il racconto e si va dentro le teste di uno o dell'altro. Tra l'altro appunto bisogna vedere anche cosa stiamo vedendo, visto che Lady Gaga ha visto il precedente film. Insomma, c'è da rimettere. Sicuramente ci saranno tantissime analisi di Joker Folia 2 in rete, però è interessante vedere l'uso musicale, anzi l'uso della musica in questo film. Non tutte le canzoni che cantano i due sono originali, sono a volte altri brani. C'è un... però da notare che Lady Gaga è appena uscito, è uscita con un disco a sua firma, che si chiama Harley Quinn. Ah beh. Tutto insieme. La roba così. In copertina c'è lei truccata da Harley Quinn. Sta poco cavalcando l'onda, pochissimo. No, evidentemente c'è un discorso dietro, o meglio, non è lei vestita da Harley Quinn, c'è lei che si lava dai panni di Harley Quinn. Eppure questo potrebbe essere un aiuto a raccontarci cosa sarà o cosa è stato di questo progetto. Insomma, è un Folia 2, presentato pure questo al Festival di Venezia. Il precedente, forse non tutti sanno che, era stato portato in concorso per sbaglio. Sì, perché era stato proposto dalla Warner Bros. a Venezia come film, ma fuori concorso. Ci fa piacere farvelo vedere, ma la segreteria di Venezia ha sbagliato a inviare il cartellino l'invito e, al posto di mettere fuori concorso, ha messo in concorso. Todd Phillips ha ricevuto l'invito e ha detto, ma sì, ci sto. Gareggiamo e ha vinto il Festival di Venezia, tra l'altro essendo il primo film di supereroi. Contenti tutti gli altri, eh, di questa cosa casuale, vabbè. Però ha cambiato un po' la storia del cinema, in qualche modo. Il film è tornato a Venezia con, fortunatamente, dopo lo sciopero dei sceneggiatori e degli attori con molti talent a Lido. Tra l'altro c'era appena stato un grande problema tra Todd Phillips e Joaquin Phoenix su un altro set cinematografico. C'è la conferenza stampa su Rai Play, se non sbaglio, a testimoniare la freddezza di rapporti. Ma, questo film, per quanto mi riguarda, pone più punti interrogativi che risposte. E questo è un bene. Il parere personale, quello che vale 0,00, ti è piaciuto? No. That's life. Così.